ed eccoci qua benvenuti benvenuti al nuovo video oggi andremo a vedere la meta di ben spencer il mediano di mischia di bath contro newcastle benvenuti a tutti una meta veramente ben fatta su line su set piece quindi da line out passaggio movimenti ci sono degli errori in difesa andremo a vedere perché questa difesa fa questi errori ma secondo me è da premiare anche la qualità di due passaggi per dirla tutta il primo di bailey il secondo da parte di burberry l'ex tallonatore degli wasps adesso numero 8 che gioca proprio con bath bath che ha avuto fin russell al debutto potete trovare il video ovviamente sul canale e oggi quindi con il nostro carissimo lungo match andremo a vedere questa questa meta in un minuto la racchiudiamo e la raccontiamo ricordatevi che potete iscrivervi anche al patreon ringrazio tutti i patreon non solo patreon del del sito ma anche gli iscritti al canale youtube perché c'è anche l'opzione per abbonarsi direttamente al canale youtube infatti già a disposizione anche per loro il il video ma andiamo a vedere proprio questa meta la meta di ben spencer il numero 9 come detto di bath contro newcastle e quindi tiriamo su il video per capire proprio quello che è successo in questa in questa bella azione quindi è stata una vittoria convincente quella la di bath contro newcastle abbiamo visto dal dal metà del secondo tempo anche scusate del primo tempo anche ferrassel che è entrato ha giocato in una posizione ibrida tra centro e apertura perché c'è stato l'infortunio di o giomo e quindi lui è entrato come centro diciamo e ha lasciato bailey orlando bailey muovere parecchio le le fila dell'attacco ma abbiamo visto anche tanta lavoro in difesa ve lo ricordo trovate il video andiamo a vedere quindi questa azione che nasce proprio spencer passaggio per fin russell fin russell ha all'altezza beno obano il pilone quindi come potete vedere ci sono tre giocatori tre avanti obano cleute e berberi nella linea dei dei tre quarti e guardate questa difesa se andiamo a vedere proprio i primi tre giocatori della linea prima di tutto si vede che non è una linea compatta piatta ma bensì c'è un paio di giocatori più avanti come nel caso di matiaso orlando ci sono due giocatori in ritardo che si fanno assorbire diciamo la seconda e la terza freccia partendo dall'alto anche loro si fanno assorbire tantissimo da questa corsa di obano e quindi poi andiamo a vedere proprio come si trovano spaisati nel movimento successivo infatti vengono proprio ecco come scritto qua soccherini quindi assorbiti risucchiati dentro guardate quanto loro stringono in quella posizione e come si trova in mezzo il giocatore il penultimo giocatore della linea dei tre quarti che in questo caso è l'argentino matiaso orlando e deve mantenere la linea guardando anche a quello che succede all'interno però anche una doppia minaccia di due giocatori sulla prima linea d'attacco e due giocatori sulla seconda linea d'attacco infatti guardate poi che succede in questo caso si trova da queste due linee ovviamente lui verrà attaccato all'interno e all'esterno da parte dei giocatori di bath sale troppo l'ultimo giocatore della linea ed è ottimo poi quel passaggio da parte di di berberi ma guardate proprio l'ultimo giocatore della linea che pensa ad andare su i giocatori con le frecce gialle quindi cerca di andare a chiudere là quindi disconnettendosi da tutto ciò che è la la linea difensiva e che viene proprio pur vengono purgati diciamo in questo modo proprio con berberi all'altezza il secondo giocatore del pod il passaggio di bailey quindi del numero 10 passaggio bello bello veramente questo offload a contatto da parte di berberi claudy che non perde la bussola e quindi poi riesce a giocare subito il passaggio all'interno per ben spencer che poi con le gambe arriva fino in meta quindi una meta veramente studiata lavorata bene perché questi movimenti sono fatti a modo potremmo dire ovviamente ci sono degli errori delle colpe da parte della difesa di newcastle ma comunque bet spencer man of the match della partita contro bath per questi e altri video iscrivetevi al canale youtube